Ciao amici, oggi parliamo di prostata, in particolare di prevenzione. E per fare prevenzione servono tre cose, visite specialistiche, alimentazione e stile di vita. Siete d'accordo con me? Se è così, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Secondo uno studio scientifico, dimagrire aiuta a ridurre il rischio di cancro alla prostata. Sentito squaletto? Bisogna svantire la pancetta? Ma aspetta, non sarà la solita fake news? Sul mio canale non ce ne sono di fake news, solo notizie vere. Quella di oggi è scientifica, è uscita nel 2008 sulla rivista di settore Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention. Per seguire tutti i miei video è facile, basta un clic così e cliccate sulla campanella delle notifiche qui sotto per essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video. Allora, lo studio è stato condotto negli USA da un team di ricerca della American Association for Cancer Research. Ha analizzato i dati di 70.000 pazienti sull'indice di massa corporea e i fattori di rischio per il cancro alla prostata, come i valori del PSA. I dati sono stati raccolti tre volte a 10 anni di distanza, nel 1982-92 e nel 2003. Ma cosa hanno scoperto? Che mangiavano troppo fast food? In effetti sì. Gli uomini che erano ingrassati avevano fattori di rischio più alti e qualcuno aveva già manifestato forme aggressive di cancro alla prostata. Invece, chi era riuscito a dimagrire almeno di 5 kg aveva ridotto notevolmente il rischio di cancro alla prostata. Non scappare! Da domani ti metto a dieta alghe bollite e corallini in bianco. Niente dieta, alimentazione consapevole. Se dimagrire diventa una punizione, indovinate cosa succede? Eh, che poi riprendiamo i chili con gli interessi? Giusto, per dimagrire in modo trendy e sano potete seguire i consigli di questa playlist. E se volete un coaching personalizzato con me, trovate il link in descrizione. Ora condividete questo video con i vostri amici sui vostri social. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Ciao! Finito! Non scappare! Challenge! Negli stati ricerca! Yeah, English!